Sono tanti i figli spirituali facenti parte di quella clientela mondiale che Padre Pio ha adunato attorno a sé, che stanno compiendo il cammino di santificazione verso gli onori degli altari, verso il riconoscimento ufficiale della santità da parte della Chiesa, che fanno parte della gente comune che Padre Pio ha conosciuto e che grazie al suo aiuto, alla sua preghiera, sono diventati un esempio da seguire. Mentre ci prepariamo alla festa di San Pio da Pietrelcina vogliamo proporvi alcune di queste figure. Lo vogliamo fare in compagnia di Francesco Bosco che con il suo programma Toccati da Dio, conquistati da Padre Pio, ci ha illustrato quali di queste figure sono in cammino verso un riconoscimento ufficiale, come dicevamo, della santità da parte della Chiesa. Queste figure poi sono state anche ampiamente descritte nella rivista Voce di Padre Pio nel 2019 e in questo 2020. Dunque, Francesco, vogliamo partire con una figura speciale che viene da Bologna. Voglio partire con un detto. Bologna è famosa per la Madonna di San Luca, per le sue torri e per padre Marella, Don Olinto Marella. La prima figura di quest'oggi. Sì, Don Olinto, come racconta il virgolettato dell'articolo di voce di Padre Pio, è proprio padre Gabriele Digani che mi ha detto questo. Un detto poco conosciuto perché Don Olinto, ovvero per tutti padre Marella, era quell'uomo, quel prete con la barba bianca, quasi un accattone. Si metteva in un angolo nel centro di Bologna, per chi conosce Bologna, proprio a due passi dal Duomo, tra via Orefice e via Drapperie, perché lì c'era un po' la bella vita, tra virgolette, di Bologna, era molto trafficata. Lui sceglie quel posto per raccogliere fondi, raccogliere soldi per i suoi ragazzi, per gli affamati, per gli orfani che si rivolgevano a lui. La storia di Don Olinto è anche una storia caratterizzata dalla sofferenza, perché lui nasce a Venezia, anzi nell'isola di Pellestrina, il 14 giugno del 1882. La sua famiglia è una famiglia benestante, molto cattolica, ed è grazie ai fondi della sua famiglia che lui riesce insieme al fratello Tullio ad utilizzare, con la morte dei genitori, quando entrambi ormai avevano abbandonato anche la casa, il palazzo dove abitava lo trasforma in un vero e proprio giardino di infanzia, dove raccoglie un po' tutti i bambini di Pellestrina, soprattutto i bambini orfani. Nel suo curriculum c'è anche da segnalare che nei suoi studi, studia anche alla Pollinare di Roma, conosce un suo, che poi definirà lui stesso grande amico, parliamo del futuro Papa Giovanni XXIII, che lo ha sempre considerato un grande amico. Tra l'altro, lui, quello che andrà poi a costruire, soprattutto per i più poveri, ci sarà anche il ricreatorio popolare. Dicevo la sofferenza, perché purtroppo nel 1909 arriva un momento un po' critico e soprattutto triste per Don Olinto, ovvero padre Marella. Marella viene sospeso a Divinis, lui per questa grande voglia di accogliere tutti, accoglie un amico prete che era stato scomunicato dalla chiesa, Romolo Murri, un uomo che Marella descrive distrutto dal dolore, smarrito, senza meta, lui lo accoglie in casa per tre giorni e questo significa per lui una sospensione a Divinis. Non può celebrare l'Eucaristia, quindi lui lascia l'isola e consegue la laurea in storia e filosofia e gira un po' per tutta Italia, fino a Messina come docente, a Rieti, Treviso, Padova. E qui, in uno di questi ambienti, tra i suoi ragazzi, che lui avrà, vi è un certo Enzo Biagi e Indro Montanelli. Pensate un po', Indro Montanelli subito lo descrive così, come un professore che non era un professore. E lui ancora sottolinea, lo ha fatto anche in una intervista televisiva, come aveva potuto la chiesa non capire ciò che avevo capito io, da laico e miscredente, che quello era un santo e diceva Marella aveva la grazia. E perché padre Marella e padre Pio avevano questo rapporto così particolare? Ecco, padre Marella e padre Pio, lui si trasferisce a Bologna, sarà proprio il cardinale di Bologna che lo inserisce nella sua diocesi, quindi viene revocata questa sospensione, nel 25 torna di nuovo a celebrare Messa, intanto i giornali cominciano a parlare di padre Pio e nel 1931 il resto del Carlino parla di Bologna come la capitale del culto dei devoti di padre Pio da Pietrelcina. Tant'è vero che raccontano i suoi più fedeli figli spirituali che lui scendeva a San Giovanni di Rotondo per prendere un po' di ossigeno. Quando era carico del peso, della responsabilità, lui andrà a creare una serie di strutture, tutte per i più bisognosi, in modo particolare a Bologna, la città dei ragazzi, dove era una vera e propria città, organizzata con un proprio sindaco, un consiglio comunale, avevano dei reparti dove si lavorava, ecco, dava lavoro, dava una casa a padre Marella e tuttora in queste diverse palazzine a Bologna, dove anche nella cappella della città dei ragazzi è collocata il suo corpo, lì diventava il fulcro, dove lui attingeva, ma purtroppo, come sempre accade, c'erano quei momenti di sofferenza e andava da padre Pio, scendeva a San Giovanni di Rotondo, a volte non avvisava nessuno, lasciava solo dei biglietti, vado a San Giovanni di Rotondo a rivederci, oppure vi lascio a voi la responsabilità della casa, raccomandava i ragazzi, anche per dargli un segno di responsabilità, ed andava via. Quindi è la carità sostanzialmente il tratto distintivo tra padre Pio e padre Marella? Sì, anche perché proprio probabilmente su impulso di padre Pio, padre Marella diventerà anche terziario francescano, ci sono una serie di figli spirituali di padre Pio che hanno intrapreso questa strada, ed è lo stesso padre Pio a dare questo tipo di indicazione, tant'è vero che lui, spesso si confrontava con lui, che cosa si dicevano i due? In realtà noi non siamo a conoscenza dei loro colloqui, dei loro racconti, lui ha portato nel 50 anche i suoi ragazzi qui, c'è una bellissima foto che li ritrae davanti alla chiesetta antica di San Giovanni Rotondo, qui del di Santa Maria delle Grazie, dove questo gruppo di ragazzi sono proprio qui per incontrare padre Pio. E' una dei ragazzini, oggi diventata nonna, ha raccontato quell'episodio, raccontò che nel momento in cui si videro padre Marella e padre Pio, subito lui a costo si abbracciarono e si isolarono, quasi per un quarto d'ora, affinché lui raccontasse tutto quello che accadeva nella sua vita e soprattutto lì, proprio perché c'è un episodio quasi arrivato alla fine della sua vita, Marella voleva un po' lasciare tutto ad altri e voleva in un certo senso confidare tutto questo allo stesso padre Pio. Andò a San Giovanni Rotondo raccontando quello che stava accadendo e raccontandogli il fatto, padre Pio lo guardò negli occhi e gli disse sei un vigliacco, perché vuoi fare questo? E ancora, vado sul virgolettato proprio per non sbagliare, stupito ma in fondo contento di quella risposta, fa come gli viene detto da padre Pio, tu non hai motivi per ritirarti e torna a Bologna e continua a lavorare per i ragazzi, per i tuoi ragazzi e lo fa fino all'ultimo giorno, proprio quando sorella morte lo coglie nella sua casa che tra l'altro aveva anche donato, quindi non era più casa sua e contornato da tutti i suoi ragazzi, infatti lui nel momento in cui sta per morire chiama tutti i suoi ragazzi attorno al suo letto e gli dice proprio che le preoccupazioni non gli mancheranno mai ma vi lascio il mio cappello e vi assicuro che non rimarrà mai vuoto. Il cappello, il cappello di padre Marella, proprio perché lui attraverso quel cappello ha raccolto tantissimi fondi, tantissimi soldi che hanno aiutato i più piccoli. Oggi in quell'angolo di Bologna, anche se chi va a Bologna e va proprio in questo angolo dove c'è un noto negozio bolognese dove aveva intuito Marella perché di lì passava tutta la gente che doveva acquistare e quindi uscendo da quel negozio doveva poi versare almeno una piccola quota per i poveri. Lì oggi c'è il direttore dell'opera della città dei ragazzi che è padre Gabriele Digani che è sempre lì, che diventa anche un piccolo angolo di consulenza spirituale dove la gente non solo va a lasciare qualcosa per i poveri ma vuole anche confrontarsi e diventa quasi un confessionale aperto nel centro di Bologna. Il cappello della carità, questo è il titolo dell'articolo dedicato a Don Olinto Marella, venerabile che diventerà beato tra qualche settimana. Il prossimo beato tra qualche settimana, morto il 6 settembre 1969 a 87 anni. Questa è una storia che tu hai raccontato su Voce di Padre Pio anche nel programma Toccati da Dio in cui abbiamo cercato di riassumere in piccoli flash potremmo dire questa vita particolare. Allora ci rivediamo domani per scoprire un altro figlio spirituale di Padre Pio in cammino verso la santità. Grazie. 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 Grazie.